Dalla luce al buio, cantando la lode a Dio. Nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha celebrato insieme a molti religiosi e religiose la messa per la ventunesima giornata mondiale della vita consacrata, nella festa della presentazione di Gesù. Ricordando il canto di Simeone che attese il bambino nel Tempio, riconoscendolo come Messia, il Pontefice ha esortato a confidare sempre in Dio, perché la speranza in lui non delude mai. Siamo eredi dei sogni dei nostri padri, ha aggiunto eredi della speranza che non ha deluso le nostre madri e i nostri padri fondatori, i nostri fratelli maggiori, che hanno avuto il coraggio di sognare. Solo così si potrà essere fecondi senza lasciarsi sopraffare dalla tentazione della sopravvivenza, che rende reazionari e paurosi, chiusi alla creatività, professionisti del sacro ma non padri, madri o fratelli della speranza. Ciò che salva, ha ribadito Francesco, è mettere Gesù là dove deve stare, in mezzo al suo popolo, anche quando la realtà è piena di cambiamenti. Pertanto ha invitato i consacrati ad essere lievito con le mani all'aratro per far crescere il grano seminato nella zizzania. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa avere un cuore contemplativo, capace di riconoscere come Dio cammina per le strade delle nostre città, dei nostri paesi, dei nostri quartieri. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa farsi carico e voler aiutare a portare la croce dei nostri fratelli e voler toccare le piaghe di Gesù nelle piaghe del mondo, che è ferito, e brama e supplica di risuscitare. Metterci con Gesù in mezzo al suo popolo, non come attivisti della fede, ma come uomini e donne che sono continuamente perdonati, uomini e donne uniti nel Battesimo per condividere questa unzione e la consolazione di Dio con gli altri. Mettere Gesù in mezzo Mettere Gesù in mezzo Mettere Gesù in mezzo